intanto sto loggando potete invitarmi in lobby se volete ho cucinato una build ci sta ho avuto le palle per farlo cosa vuoi inturgot? inturgot, ci vuoi i top laners? vuoi anche zack se preferisci se hai qualcosa di meglio in jungle puoi non so cos'è good inturgot hai qualche idea? atrox? forse jacks non so io potrei giocare se vuoi brand però forse siamo un po troppo brand è bannato puoi andare all'isins se vuoi e gioco all'isins top hai fucking up forse olaf è broken qua no bait 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 hai fucking up va bene va bene potete scegliere voi il match up però dobbiamo comunicargli le immagini zack di fragolozzo lo farei giocare a fragolozzo più che altro non mi ispira molto a zack pick qua non lo so se riesce a giocare in bot le tira dritti diciamo che se non riesce bisogna traccare le summer è importante traccare le summer la cosa fondamentale è traccare il jarvan cioè dovreste cercare di evitare il 3v3 perché secondo me l'ho perdetta mi invitate please il problema è che invadono invadono zack alla wave 3 non possiamo far finora invitato se non ti arriva la lobby è bagata ci sono ti manca nessuno ci vogliamo mettere in ordine vogliamo mettere zack top è zack jungle giusto gli dobbiamo dire però sia meglio perché lo dobbiamo dire perché lo dobbiamo dire è perché siamo in blind loro devono preparare cioè normalmente c'è i 20 secondi per preparare ma qua non vedi contro chi sei ah ok ma scusate non ho capito ah perché eh sì qua direttamente in partita non c'è non vedi loro non vedi chi prende il campione esatto vuoi giocare tu zack io giocherò le sin per me è indifferente se vuoi le sin vai le sin io preferisco le sin vai 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 lo preferisco provalo zack poi è proprio rotto top sì però meglio forse intubili hey guys le sinistro in zack jungle just to make you know ok thanks dicono pronti non abbiamo bisogno di fare flex pick noi glielo diciamo straight up sono caldo carico come metà dei champion loro pronto da ferrare punto urgo è importante che parliate molto eh sui cc che avete ultilivirus cerchiamo di traccare i flash esatto eh paolo time on the summoner non lo prometto ma mi ci proverò provaci dai che ci provi secondo te è una cosa da king shark o da 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 seppia com'è come la sogliola da seppia seppia non è male da dire ci proverò no ci riesco paolo come sempre se qualcuno può stremmare è meglio grazie ci sono 15 minuti ragazzi ma hanno modificato la rune non c'è più quel il demetralizer che a me sono andato speciale a moltissimo e tutto quel quel ramo mi fa tutto che cari quindi la scelta era un cazzo in culo nell'orecchio e anche io non posso più andare proxy rammus per quella roba disgustoso non bello non bello ma qua rammus era fornissimo questo era un really good rammus e anche il bel proprio portolo ma poi avrei dato forse un star l'avrei preso volentieri il rammus però senza dematerializer struggling eh ma più che altro l'hateron contro lux che è l'anari ma no io mi catapiombo come un catapulto eh rammus è proprio un campione da dei daga mi diverto tantissimo a giocarlo oh ma che skin è questa qua di zack è bruttissima zest dip che cazzo è zest dip ai frago ma diciamo che sì diciamo che il problema si può neanche è vergognosa sta skin ma guarda questa è anche la grossa dove si dare le altre un pugno in occhio comunque il problema è che c'è la scala red start possono porti 3 wave in 2 invade invade top top siamo forti il problema è che se si splittino la mappa contro di noi noi non vi giochiamo al videogioco start a bot start a bot guarda questa qua io guardiamo guardiamo la botten c'è chi è il focus ari ari non la raggiungo facilmente ti prendi che prendi va bene jarvan buono paolo va bene va bene va bene allora il mio no flash che rende più facile loro invader pericoloso vediamo greon è vivo e se riuscite a bloccarmi qua probabilmente mi blocca ma non ci credo che non ti blocca king dai devo andare io c'ho il barrier ancora lui non ha il jump dove possiamo farli prendere summer ce la vi se lo guarda di nuovo yes mister baumi e sono costretto a startare bot non do this abbiamo troppo regalare non possiamo giocare ha dato il bug la kate possiamo giocare bot anyway giocare per la top bot doomed beh sappiamo dove start a jper vabbè doomed ma era doomed pure prima tranquillo ottimo mi fa piacere come match up guarda il mio codino no kevin è da kevin ma l'orecchio ce l'hai si pannellino con lo ciocchio in caso ti è possibile fare tre campi in due bot eppure tre campi in post si è un po' green gioco in post loro se non si pushano hard non hanno non hanno troppo mano guarda di scavrio vediamo sta wave guarda qui guarda qui vabbè posso fare x flash adosso kevin ha tentato non ho livello 2 posso brava di nere serve secondo me puoi è super forzato sì io posso grabbare lux gravi ci sono oh minchia sa ora guys è reset lux non flash oh sta trollando l'exhaust ma che fa buono puoi prenderti un po' di farm se vuoi magari riuscite anche a prenderla non ha barriera arrivo su jarvan can we do something io non posso muorre no no arrivi tengola wave tengola wave è riuscite sì ok i'm out è la mia giangola è grabbare è grabbare top è gone forever io però faccio l'addominale qua ah bene quella fa la qua ce l'ha in mano meno ma meno ma quanto sei una poeta la top side è gone c'è anche la possibilità di tornare bot vabbè top side penso ci sono i golem app onestamente quindi devo prendermeli che non posso simpatri io forse top vediamo vediamo dove è jarvan a partire da quel giorno il clan canta guerra si radunò sotto i vestiti occhio mid occhio mid dai raptor ok ma spoke ma questo c'era ancora qua è abbastanza bizzarro oriana non può arrivino qua quello perché ho fatto il romala kevin si è spaventato arrivino qua non ho capito no 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 però guardato qui e ori tu non puoi dire bot vero è il d'ora di stare dopo questa wave è il bot è il bot questi per mappuccio io abbraccio il flash varus è molto behind ma ora fai potrebbe essere di roll alena sto venendo io l'ho su questo minion però puoi ingaggiare se vuoi io sono strong oh fuck andare non ha flash occhio non morire mi raccomando ok davidavia lo sopra non grab minchia crash o reset che c'è jarvan vicino posso flash il back heading se vuoi posso flash a flash ah beh è il traddo ho l'ex flash non lo sto dicendo perché sbagliato non c'è mid non c'è mid non c'è mid non c'è mid non sto dicendo perché ha sbagliato ma lo sto dicendo perché c'è quello che ha ha detto di sì ma intendevo jarvan vorrei stare sono troppo tardi jarvan forse è lì ancora io vengo mid lane mi sa che lì guardare bot paolo paolo guardare bot la wave come puscia persino ma non è guardare una merda va sfrizzata al massimo se vuoi con te io posso venire a rompere ma stanno ripusciando what the fuck eh allora può magari guardare ma io posso restare se pushano questo jarvan qua ma io lo one shotiamo secondo me oh jackson c'hai che miss c'hai che miss non credo raga viene adibot questo è un problema no no stiamo sotto io ringaggio se ringaggiano da qua eh aspettate che si sciuva mid eccola qua eccola qua potrebbero chiamare drago potrebbero fare drago si lux mid però non mi impado comunque what the fuck possiamo fare io faccio proxy se viene jarvan prendiamo drago proxodip io proxodip lux dov'è? ah non so se è utile ora non ci danno la brush io vengo mid allora la dopamina è tanto lux frizza eh non è che lo levo più caldo se fa questo l'ammazza 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 qua c'è ari però un po' il cazzo qua no gioco a jarvan bot facciamoci i wildlings si si facciamo i pipotti ce la fai da solo oi? mi sto facendo i wolves qua fatti pure i wolves e poi vieni inizi jarvan è una bot mi sto facendo la magda bot fino una mano flash jarvan ho chiamato jarvan ancora da qua possiamo punire urgot o you think it's bad? jarvan non c'è penso sei ancora bot side oddio se fai kick ce l'abbiamo il danno per uccidere la full vita no probabil no magari lo baito posso giocare che per kate non c'ho no ma è bene ari miss ho capito dovevo vuoi stare flash vogliamo invadere? si jarvan ancora possiamo andare in la mia jungle ha goto offside ok se dievano bot o il tp guarda qua mi vengono guarda guardaci vabbè lei ce l'ho capito stava detettando a breve io c'ho il 6 non può far ok no flash io prendo questo disipiamo tutto occhio vu guardatevi di ero bot abbiamo il tp in caso per voi penso no? ma dubbio ci possono tranquillamente dai guard che sto pesandomi guarda bot sono bots 100% sono bot eh io non c'ho il tp corri i bot il problema è che si hanno però mi traio adesso posso correre anche io bot io mi sto muovendo posso tippare top dopo sto camminando io direttamente bot si si cammina bot penso che siete fine baitateli baitateli anche se morite siamo in 4 siamo in 4 arriviamo cosa non può fare puoi capare puoi capare puoi capare puoi capare arrivo 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 ancora ancora arrivo arrivo ha tutto up ha tutto up caitlin oh coddio so due andiamo andiamo eh ma come vado teniamoli qua ma i dati sono bassi stanno arrivando fuck due volte la Q max range no flashare comunque io tipo top flash gate flash are time out dovete giocarci attorno si time no preso lì capito paolo ora verso bot c'è clear in 2 bot menù 2 2 3 trago se se li pingate mi date ancora una mano a me ragazzi guarda guarda lux guarda lux io c'ho la r corre qua posso flashare io non sono a bot eviterei di fare cose guarda guarda porco due fake air ok flash arriva giarvan arriva giarvan bot io non muoio ok bene are qua nel river e resti invadono eh si ce l'abbiamo non posso recuperare vai arriver proviamo sadhats di agra il nostro site si arrivo arrivo ariano air non penso possa restare vai io c'ho la move su riandolo vai va bene guarda lo posso recuperare no 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 troppo di va bene è solo un fight sono messo la base in spazio la tower è gone molto ok vediamo oh la ulti miss hour gott attentamente no no ok ragazzi ragazzi le in assignment stesso verso la bot e noi metciamo il gioco in meno o volete mettere la bot mid ora andranno la bot mid penso e giocheranno void ma sono ancora là posso iniziarli ora e void ci provo se voglio possiamo se ne sneak anche uno e mid ha besato e non c'ha ulti dragon minuto recollo per hero cosa uno sneak atto eh bene 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 sì sono mid guarda mid guarda mid è morto è morto non è il flash l'ho temato buono no ulti urgot possiamo io ho il tp io ho il tp ma dopo drake riusciamo a rascarne uno fast sparo non vale niente non vale niente pusha dopo ok a me non posso vecchio dietro tp top tipo mid urgot è un spike non facciamo niente ok abbiamo varus bot siamo nemmeno arrivando verso di voi 15 secondi puoi hittare puoi hittare bot se vuoi ah è inutile per mettere bot allora orina bot o qualcosa del genere arrivo arrivo mid devo flashare qua già non c'ho la ultima urgot può muoversi no 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 io ho questo qua sono qua no no guys ho un r un r io ce l'ho tra dieci se l'ha la ulti ma se andessimo al drake jarvan non ce l'ha la ulti ahri ce l'ha si allora che viene in infinite edge contestare contro infinite edge katrin non so se la play io che la bokeh non è che la minata infinite edge ma è katrin mid game possiamo fai darlo poi secondo me sono ritario sono le void sono top sono top io prendo la tua giungla e sto attento al cross map qui anche se non penso che smapperanno mai top dubbione giocano top tre persone forse stanno giocano top vengo mid possiamo fare una play mid quando loro torrono dalla play aria è la ulti oddio sono solo loro sono tre sono tre top stanno ricollando probabilmente ma rubiamoci la jungle rubiamoci la jungle no no qua 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 guys push out i mid mid play push on this girovan là stiamo vincendo bot e ci rubiamo la jungle possiamo anche ammazzare girovan chi vuole ammazzare girovan quando ricolla però te te l'hai interrotta bene così anche c'è la campi stiamo già vincendo loro sono ancora qua e li sto stoppando puoi startare herald io avrei fatto herald c'è Urgot qua ho stoppato kaitlin sono stra off tempo loro si dire set andiamo herald se volete contestiamo no non lo affidiamo no questo è forte si Urgot è kind of scary siamo on same timers occhio qua occhio anche bot insomma magari sono pazzo girovanmente avrà morto i campi ma non ce li eccolo qua infatti non so se Urgot è il tp comunque c'è Arman e Lupi non so se puoi guardare di topside è good paolo io vorrei tipo spammare la mia r in mid lane contro sti tipi non hanno clans e non possono giocare così raga hanno la move di Urgot ok abbiamo possibilità di fettare qua devo difendere di tol dare mi sto muovendo facciamo la galt è gratis sono messi male ho occhio bot magari forza giocano a bot stiamo facendo mi stavente potrebbero essere in 5 loro eh però sicuro si muove ok no fatelo abbiamo full vision we can sneak it attento a bot al dive possiamo farlo mid questa cosa è ruba anche il blue che posso fare? flashare su Katrin? questo c'è no 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 parzata prende Pryo stiamo vincendo jungle Pryo mid top e vediamo qua si lascialo stare siamo mid Pryo non riuscite a parzarla vedo vero o no? no se sei vicino sì io posso fare flashare su Katrin non posso non può creare io sto in fog qua sto aspettando che qualcuno è vicino per fare flashare sennò questo non può mai prendere Pryo contro io potrei anche sono qua dietro con Fragona sono Jarvan dietro di voi c'è Jarvan sul side di qua ricordatevi io se volete ci sono quasi eccoli qua qua non posso farlo sono tutti sono tutti ma abbiamo vinto noi comunque così va bene vado top io ho fixo top io ho Lockett in base ricordato subito ok top ancora due al Drago fightiamo quello magari Urgot a shutdown non so come sia possibile però un buono mancano 100 gold sono un spike prendo in campo sono enorme io io posso prendere questa vision con Fragona quello sta trollando non c'è nessuno dietro io ho il prossimo wave reset evitiamo fight che io non posso joinare nel campo ok ricordiamo il Drago non usiamo summoners ne roba giochiamo Drago è difficile per non elevare questa vision aiuto aiuto siamo uno in più qua possiamo io slow stack top vedo di recallare su questa e ci sono anche qua anche qua Rihanna deva andare back Paolo Rihanna deva andare back aspettiamo crash questa back poi ci sono se dovete recollare ora io recollo prendo per il Drago poi vediamo ti puoi lasciare concedere la prova fino a che non siamo di uno gruppati ci sono sono enorme questo sta forzando mi voglio impedire con l'arma abbiamo tp 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 questa roba non sia bad per l'ora no aspetta arrivo 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 vince no we win this we win this si katrin no flash katrin no flash posso andare per katrin no io ce l'ho io ce l'ho 2 faker guarda katrin arrivo 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 ragazzi attenta turgo turgo dietro io ancora l'ult abbiamo il drago ragazzi è solo è gratis vado vado andiamo forse lo contestano non è starla per la pianta 3 bel pippo uwu wu la urgo stanno top ho rubato red buff ho rubato tu red buff io dovrei collare giochiamo bot tower abbiamo wave rimango anche io bot siamo strong oh kit kit guarda questo io non l'hai 7 secondi arrivo te l'ho tolta l'acqua non si ho visto guarda qua guarda qua guarda qua io non gioco ho 100 hp ragazzi il red non siamo più al red si avrei bisogno di un cover perché non c'è nessuno non c'è nessuno probabilmente non c'è nessuno io ho baron vision se possibile vai sguappiamo top per la vision dai cover varo se regal lo qua la mid la forse la vostra qui c'è una che ti tippano fai attenzione forse possiamo killare agri ragazzi ci sono se lui agro andiamo non serve a niente sta kill alla ulti più che altro io rimango bot stiamo facendo non c'è nessuno qua mi sa l'ulto adesso ma se c'è la gente dietro che facciamo che facciamo i danni non c'è nessuno noi perdiamo torre mid si sigeano in tanti provo a difendere qua non a perdere bot non dureranno tanto mid io prendo un'altra botta quella q di zack era illegale in 75 stati che range aveva gelatinoso mi allontano dalla botta possiamo forzare baron mid mid guardo no guardo baron guardo baron giriamo c'è questo killiamo katyn se è possibile katyn purgot è enorme proteggete orianna protegge orianna mi serve una mano qua no no io sono fine io sono fine possiamo fightare con me paolo tieni lì arrivo 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 sono fortissimo bravo bravo ok ok che lì sin mi hai ricordato il dus ok ma gripiamo ah minchia che ti emozionasti ti ricordi cazzo forse fate un'altra tavola contro ari maybe ok cambio no no prendiamo il blue qua mi hai ricordato il dus turn of topside siamo molto più forti di loro però mi imbarazza ed in il dus ma non è molto strong in questo momento non parlavo di player parlavo al momento poi parlavo del player l'avevo capito sì comunque quello che hanno fatto button da arresto con le 6 morti di lux magari la prima è defessi no vabbè baron dai forziamo baron arriva lo tanko all'infinito e ci giriamo no bro sono occhio dead occhio dead mettiamo dead dove lo facciamo 40 secondi giochiamo con le wave 40 e poi forziamo baron dai dovremo anche fare drake no barrier flash mi sa no actually flash là no barrier è ok perché ho il tp non è successo niente misplay meccanica ragazzi no non fate niente non fate niente ci è spenta kill possiamo giocare drake a questo punto un minuto ah io forzerei nascite fight ah cosa non so per te solo barrier solo barrier ma se forza non a share good eh io tipo qua dietro li scopriamo a sangue no ma io voglio forzare nascite 10 secondi 10 secondi che spawn 10 secondi che spawn possiamo eh aspettiamo aspettiamo ok puoi startarlo è perché tipo dietro o il tp ci ingaggia su vario ok vedo di tippare fra due secondi andiamo a vario guarda che è il tp tipo qua posso grabare kate no no è vero sono morto devo andare via vieni huge no no 2 vai keep going keep going troppo fitta no sono bass c'è un drago c'è un drago c'è un drago chi c'è il drago ragazzi eh vabbè 40 secondi arrivo io ti c'è un drago prendiamo urgo side lo prendiamo e la famo non prendere questa ok lo shottiamo bravissimo commenti che ti resetto però stapparla devo up here mettiamo guarda il barbo se lo fanno in due non lo so non credo non ci serve una mano qua basta no 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 mi danno senza katelein se katelein è made up usciare non credo che lo possono fare io non guardo il drake mi sa che eh no no dobbiamo guardare top side mi sentite? pausa ah è riconnesso no 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 c'è c'è no tutti già al baro non so se l'hanno saltato c'è la piccola chance ciao pausa no mi sta crashando a caldo però provo red qua riusciamo? il suo red andiamo al suo red io due mi devo resettare per item vengo anche io a red vediamo di quanto è guardato io toh anche sti cazzi ma qui mi devo resettare ragazzi sto intorno alla made così vabbè vabbè prendo questo e resettiamo attenti quando troviamo top forse sono il nostro red che do qua dietro io resettiamo let's go together qua flancano qua flancano si si ingaggiano back off subito comunque io ho one shot ok con un aq se hai hito un aq su kate è morto però resetto dopo questo resetto anche over vision c'è sempre chance ma dubito insieme insieme qua che hanno full vision siamo off tempo con la bot fin penso che mi hanno sono a war sicuramente perciamo sto baron non questa wave la prossima giochiamo la wave chiudiamo qui barge è pure grosso comunque penso che si ci sono io sono qua intorno sei ancora solo lux era qua era wardato lux qui vado su kate vado arian si muove posso andare su urga di nuovo morto martiret non ho ward andiamo a nasher 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 io mi metto sul flank ok mi metto qua dietro guarda mid me guarda mid me sono freno stai ingaggiando vai vai possiamo provare non ce l'ho tutti mi slavo tutti arrivo kate uno flash kate uno flash è ok non può giocare kate non può giocare kate porto zack è immortale kate posso facciare su kate se vuoi te vai kate keep going keep going keep going no 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 kate ci mettiamo due ore natural natural ok io la troll forse tu tu puoi provare ma hai la ultima non è troll credo buono mi serve il mio danno lì posso fare i tower no no serve poi dopo ci raggiungo ma per caso non abbiamo fretta se vuoi venire dopo esatto non cambia molto mi muovo mi muovo anch'io poi zack fa un sacco di danno mi sa zuck zuck si vedete anche la jungle potete comunque la nostra fronte è immortale se teniamo in vita o arianne vario non possiamo perdere un fight possono invadere qui ma a me non dovete pensarci cioè giocate voi per killare loro tanto io sono letali quindi dici se muovi dopo che fate il giro spessi cazzo si basta che prendete caitlin io sono enorme ragazzi sto resettando giochiamo top side cioè io voglio splitare voglio stare top vabbè giochiamo due le non tre però questo è buona split giochiamo per questa place loro dove sono? mi sembra proprio disperati mamma mia che prema ti faranno una play aggressiva io fixo top e mi muovo 1-3-1 però non è facilissimo mi muovo mi muovo dopo mi muovo dovremmo andare noi side ora ora qua c'è un giro arvano questa è la nostra jungle ora ora se fightate è il loro turno guarda sta tippando io aspetto a tippare aspetto a tippare zack fa 1-3 si 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 vincete io buscio io buscio buono io ho la passiva anche ho la passiva ultro forse muore kaitlin io ho la passiva abbiamo tippo posso tippare sul blocco possiamo fare pinning sul bambino aria 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 ho preso aria bro io so risparmio energetico qua l'indispensabile ma si si lo dà ma poi dovevo chiamare varus più che bambino summer spell usate ultimo fight a partire da quel giorno ah se c'è lux ho cringe paolo eh king ci sto provando no no sta a prendere il personale dai mi fai sentire in culo miste la Q heads no però a parte di scherzi ragazzi se pingate le summer non è un lavoro solo di paolo è un lavoro di squadra cioè mi viene in mente io vedo uno che pinga il flash mi viene più facile temarla assolutamente non è solo con il suo è un bel termonicale soprattutto quando c'è un bottone immobile come Katenlux cioè un flash timer fa la differenza sapere se c'è app o no quando si tappate qualcosa bravo fragola eh per me il fragola di zack è dopo Kane la meglio merda che vende ha 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 Grazie a tutti